Per i motivi noti non si sono incontrati, invece parli a lungo del Tour del 2000 di alcune sfide che restano ancora memorabili. Voi accennate, voi dici quella che ti ha emozionato. Guardate, io mi ricordo che quel Tour del 2000 era stato accolto dagli sportivi italiani con un po' di scetticismo, perché prima Vittorio vi segnalava l'episodio della spiaggia, la discoteca, eccetera. Pantani dopo Badone di Campiglio era stato un anno senza fare una gara, si era presentato la partenza del Giro d'Italia del 2000 all'ultimo momento, non allenato, scegliendo proprio di, come si dice in giro, fare la gamba correndo il Giro, che non era certo la soluzione ideale, tantomeno per uno che il Giro l'aveva vinto, eccetera. Però lui prese questo tipo di decisione, però va al Tour e tutti dicono ma no, ma ha corso solo 20 giorni, in un anno non ha la preparazione, l'allenamento. E infatti i primi giorni al Tour, in tappe non molto significative a livello di altimetria, lui viene staccato più di una volta, accumula dei minuti di ritardo, mentre Armstrong va fortissimo, eccetera. e sembra quindi insomma il sipario su una storia, no? E poi però quando arrivano le grandi montagne, io me lo ricordo perché era diventata una cosa che la gente ci mandava i messaggi o ti chiamavano sul cellulare perché c'era Pantani che andava in fuga sulle strade del Tour. Oltre un anno dopo, madonna di capire, cioè era talmente grande la voglia di ritrovarlo a livello di opinione pubblica, no? Che quando si seppe che sul Mont-Battu erano rimasti lui e Armstrong, siccome c'erano già allora i dati d'ascolto televisivo, quello che si chiama Audit, non c'era più impennata verso l'alto, cambiavano tutti i canali, ho acceso la televisione perché Pantani era tornato. Figurati qualche giorno dopo perché sul Mattu Pantani dai a treguardo per primo, Armstrong credo sia vero, lo lascia vincere, però lì si vede proprio il boss, la malavinta, no? Vittorio ha corso, lo sa che quando uno lascia vincere un compagno di fuga perché gli è simpatico, perché l'ha aiutato nella fuga, perché ha un debito da onorare, un debito armonistico, non vado un po' dai giornalisti e delle televisioni a dirlo, ho lasciato vincere, no? Cioè queste cose non si fanno, ma non perché ci sia una logica mafiosa, perché non è legato, non è simpatico, però i confronti di lui che ha faticato quanto tempo in realtà... E c'è Amso Brasso e Ritordi, non l'aveva fatto Pantani? No, Pantani con Ulrich al tour del 98, c'era stata una tappa che Pantani era già maglia gialla, che erano arrivati loro due, e lui cavallermescamente non aveva fatto la volata, aveva lasciato vincere il tedesco, poi magari Ulrich avrebbe vinto lo stesso, lo spingono, non è che Pantani dopo è andato da Dezzani a dire eh, l'ho lasciato vincere, no? Cioè, invece Amso, che era così, era appunto il cowboy, anche rozzo in certe cose, Villano, va e dice no, ma l'ho lasciato vincere, no? Insomma, quasi come per umigliarlo. Ai che Pantani ebbe questa reazione meravigliosa, perché era comunque un grande campione orgogliosissimo e alla prima grande età palpina, che era quella che si contradeva a Corchevel, io credo che sarebbe anche morto sulla strada per un distaccare l'amico, non di inserire, perché mi sono andato a riguardare il filmato, sono una ventina di minuti dell'ultima scesa impressionerata, perché lui comincia a scattare la ripetizione, Armstrong che comunque ha già vinto in tour, perché ha un vantaggio di minuti in minuti, capisce il senso simbolico del momento e fa di tutto per restargli aggrappato alla ruota, se vi capita andatelo a vedere, perché è uno spettacolo, sapendo quello che è successo poi nella vita di entrambi, straziante, ma è un'emozione purissima, incredibile, e Pantani riesce a toglierselo di ruota, le mancano un mino di 4 km, e poi non si volta più, non si volta mai, continua a pederare come un forse nato, taglia il treguardo, non alza neanche le braccia, perché è come in trance, perché sta facendo quello che è il senso, diciamo così, del suo intorno in bicicletta, battere il cowboy, e ci riesce. E lì, io ero in Austria, a un gran premio di Formula 1, perché si correva di domenica, anche la tappa di Cussever, mi ricordo, a fuori notte del reddito, che mi chiamavano gli amici nell'Italia, e mi dicevano, guarda, scusa, come sta andando Schumacher, che era l'anno che poi mi dice il mondiale, per la fare non vincevano in Italia, e io dicevo, ma scusate, ma si è andato a corso in Tiro, no? Cioè no, ma si è andato tutti a vedere battaglia. Cioè, avevano mollato il gran premio di Formula 1, perché c'era questa cosa qua. E fu veramente un delirio nazionale popolare. Tra l'altro è un elemento di grande suggestione, perché quella è l'ultima vittoria di Bagnani. Dopo, per quello che è successo poi, nella sua mente, nella sua carriera, lui non ha mai più tagliato il traguardo per primo, in solitudine, da vincitore. Vittorio, ovviamente ti ricordi quella gara che forse è oggi. Beh, sono gare veramente memorabili. Ci sono momenti, soprattutto tra il tour, ma anche il Giro Italia, che lasciano, direi, anche presso questa storia. Il fatto poi, come ha detto Leo, che sono un ventù, se l'ha capito benissimo, che Armstrong non ha fatto la volata, cioè, invece a Pantani, però secondo me, un corridore del livello di Armstrong, e quando si è a questi livelli, bisogna farlo bene. Cioè, si può perdere, facendo una finta volata, di una mezza gomma, che è successo anche nel passato. cioè, in fondo, se io ti do la mano, mi dai una mano un giorno, perché poi ci sono corridori che sono fuori classifica, e quindi non c'entra niente con la maglia gialla, o la maglia rosa, che però magari, corridori di un certo livello, e tu cosa fai? Se arrivi in volata, se vinci tutti i giorni, diventi antipatico, quindi bisogna far finta di niente, lasciarlo a vincere. Ma quella è stata veramente la grande giornata. Ma tornato sul fatto di Armstrong, cioè, io ho vissuto anche dall'interno, direi, delle istituzioni, perché in fondo, sono dal 2001, sono dentro da l'Unione Ciclistica Internazionale, e dove praticamente c'è la sezione antidoping, e quindi nella sezione antidoping, ci sono delle persone che lavorano, ma a contatto con l'internazionalità, con la VADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, o l'AMA, la chiamo in francese, e io spesse volte ho chiesto, ma i fatti dell'antidoping, ma cosa ha trovato? Niente, non ha mai trovato niente, quindi lui ha fatto circa 360 prelievi, direi, di controlli antidoping, non l'ha mai trovato. Però quando è successo il fatto, io gli ho chiesto, ma allora, cioè, oggi non sarebbe più possibile, perché oggi hanno cambiato, perché il problema dei controlli antidoping, fu una storia lunga, cioè, prima c'era una cosa, poi l'altra cosa, e devo dire che i laboratori di ricerca, per sostanze, sono stati più veloci del controllo, cioè, in fondo, il ladro era più veloce che il carabiniero, se vogliamo, perché ci correva dietro. E quando è uscita l'epo, in definitiva, si cercava la sostanza, cioè, bisognava cercare l'epo, che non era facile, mi fa a sapere, se questi globuli rossi che ha dentro il sangue, sono tutti uguali, o quelli che magari ha messo dentro con l'epo è diverso, cioè, subito non riuscivano, non c'erano i macchinari per capire qual era il globulo rosso tuo o quello sintetico. Col tempo ci sono arrivati, ma ci ha messo molto tempo, cioè, nel frattempo era già cambiato. Grazie.